...però che Rigoni è stato lasciato solo, e l'altro spaglia alla porta, e lui bravo, è riuscito a girare, vediamo, condizione regolare, decisamente, e spaglia alla porta, ragazzo del cuore, dietro tutta la retroguardia del Torino, riesce a saltare così i padelli, Suso, Rigoni, 3-2, e siamo al minuto 66 adesso, da 0-2 a 3-2 per il Genova, adesso Marassi può tornare a cantare.